perfetto buonasera a tutti cari amici un po di tempo che non ci vediamo vi presento la mia un chopper realizzato forciato a mano da una barra da balestra balestra di un panda se non sono stati lasciati ancora anche il rideforge come finitura il manico è in corno idaino filettato e avvitato un firework sul dorso del manico torciglione non riuscito perfettamente primo tentativo non è molto preciso gradevole ma non è molto non è molto preciso sono 8 etti e 60 di peso 7 millimetri di spessore è un bel è un bel coltellino per tagliare la legna spessore larghezza e 7 cm lunghezza lama 23 cm lunghezza complessiva 38 cm oggettino da portarsi in campeggio ovviamente il corno non è spesso in ugual misura ma mi piaceva lasciarlo proprio così integrale un foro passalacciolo voglio fare anche una prova di taglio con voi per vedere se per essere un chopper non è male per niente il taglio devo ripetere l'ho fatto è la mia prima esperimento di forgiatura sono partito ovviamente da un piatto battuto ribattuto prima per raddrizzare ovviamente la balestra perché leggermente storta e poi ho incurvato il manico perché ho voluto provare anche a piegare il metallo in questa posizione e non lavorando solo per asportazione la presa è stabile è gradevole anche se le viti non sono ancora perfette poi magari proverò anche a modificarle o cambiarle non lo so per il momento domani ci accendo il fuoco domani una buona domenica per cucinare la abbraccia e quindi lo proverò se vi piace condividete vi ringrazio per aver perso tempo a guardare uno dei miei ennesimi video strampalati ciao a tutti